Buongiorno, buonasera, Marco Pt, volevo rispondere, volevo commentare delle affermazioni fatte da Emil Fitness in merito al training, all'allenamento e alla condizione natural. Vi faccio vedere l'intervento di Emil Fitness e poi i miei commenti di risposta. Una persona che si allena due ore al giorno in modo intenso da natural sei volte a settimana vi sta mentendo, cioè o non si allena intensamente, quindi non sa cos'è l'intensità vera, o non è natural, o non si allena sei volte a settimana, cioè questa affermazione contiene tre microaffermazioni di cui almeno una è falsa, non può essere fisicamente vera, ok? Se voi andate in palestra e vi allenate intensamente, non durate due ore, è impossibile, ma neanche i doped si allena due ore intensamente, magari splittano come poi il ragazzo che ha chiamato Raponi diceva, lui che è un professionista, sì mi alleno in doppia split però, quindi non riesce a dare l'intensità a due ore di fila in un allenamento, oppure, ripeto, qua c'è qualcosa che non guarda. Allora, premesso che io non ho assolutamente niente contro Emil Fitness, premesso che il suo è un canale comunque onesto e sincero nelle sue intenzioni, io mi alleno, io Marco Pitti mi alleno sette su sette per minimo due ore al giorno, ad alta intensità, alto carico e senza splittare. Sono natural da sempre, non ho mai preso in vita mia farmaci di contrabbando, farmaci illegali, non ho mai preso nulla a livello di doping, non ne faccio un vanto, ma è la verità, non pretendo neanche di sembrare un dopato, so benissimo, conosco il mio fisico, insomma, non pretendo certo di passare per enhanced, perché conosco anche diversi enhanced e quindi molto umilmente sto nel mio ruolo, però pur stando umilmente nel mio ruolo, io non voglio passare per bugiardo, non voglio passare per dopato e questo video è dovuto al fatto che tu Emil, mi rivolgo a te direttamente, hai un canale molto grosso, hai una voce autorevole, in virtù proprio delle tue visualizzazioni, della tua diffusione, capisco comunque la tua frustrazione perché chi difende il natural bodybuilding deve scontrarsi con modelli irraggiungibili per via della chimica e questi modelli spesso si propongono come natural creando quel famoso meccanismo commerciale della carota attaccata al bastone, che si cerca sempre di rincorrere, ma che alla fine non si raggiunge mai, quindi io capisco perfettamente le tue buone intenzioni, capisco perfettamente che tu sia animato dai migliori propositi, però io stesso, natural da sempre, mi alleno senza day off, senza splittare, ad alta intensità e con allenamenti reiterati, cioè faccio lo stesso gruppo muscolare con gli stessi esercizi più volte al giorno, se ho la possibilità ovviamente anche io distribuisco il training nell'arco della mattina, della sera, del pomeriggio, ovviamente quando non riesco a farlo per ragioni di impegni lavorativi e personali, devo condensare tutto il training in uno spazio di tempo che si occupa due ore, che occupa esattamente due ore, come minimo. Posso capire anche la tua incredulità, io utilizzo un metodo che deriva dal metodo bulgaro e quando lessi per la prima volta le dispense sul metodo bulgaro, pensai questo qua è un pazzo furioso, un alcolista terminale che ha, non si sa come, avuto il comando di una nazionale di pesistiche, mi riferisco ad Ivan Nikolov Abagev, il quale creò un sistema di lavoro basato su sessioni multiple giornaliere a massimali, quindi gli stessi 3-4 esercizi fatti tutto il giorno, tutti i giorni a 1 RM. Quando leggevo queste dispense pensavo che ormai le porte dell'inferno si sono spalancate, sono arrivati i demoni sulla terra a proporre allenamenti allucinanti, folli, distruttivi. Finché non ho provato ad allenarmi con i massimali quotidiani. È un allenamento che richiede pratica, devi avere una padronanza tecnica perfetta o quantomeno nei range di sicurezza, devi avere un kit di antinfortunistica, devi quindi essere corazzato sia dalla tecnica che da esercizi specifici di rinforzo articolare, ma è fattibile anche da natural. Per quanto riguarda poi il tuo discorso inerente al business, del fitness, il lifestyle sbattuto in faccia agli utenti con le banconote fruscianti, le Lamborghini a noleggio, sono d'accordissimo, è una cosa che a me non piace, sono d'accordo con te su questo, non è un bel vedere, non è neanche un bel sentire. Comunque ho grande rispetto per il tuo lavoro, per il tuo canale, ti pregherei però di non fare affermazioni generaliste e assolutiste che possono tirare in mezzo persone come me che non si dopano, si allenano 7 su 7 per due ore ogni sessione o comunque ogni giornata e che non intendono né promuovere il doping né illudere le persone. Se il trancio di video che ho preso infrange qualche copyright non ho nessun problema a rimuoverlo, non ho nessun problema a rispettare le normative di copyright e questo è quanto. Ti ringrazio Emil e ringrazio anche il mio pubblico. Marco Pt, alla prossima.